Per lavori fatti male poteva accadere una tragedia. Alza la voce oggi il sindaco di Pettorano sul Gizio, Giuseppe Berarducci. Frana, un costone nei pressi di Pettorano sul Gizio e decine di metri cubi di terra invadono la vecchia serie della Statale 17, a poche centinaia di metri dall'uscita del paese. Non ci sono stati feriti, ma solo per un caso fortuito. Un'auto con un'intera famiglia era appena transitata e un autobus di linea è riuscito a fermarsi in tempo dopo che il conducente si è accorto dalla nuvola di polvere che il pendio stava cedendo. La frana si è verificata a metà dicembre, nello stesso punto dove la provincia aveva eseguito dei lavori per la messa in sicurezza del costone. E ora il sindaco di Pettorano, Giuseppe Berarducci, punta il dito contro l'ente provinciale. Poteva succedere l'irreparabile, visto che un pullman di linea si è fermato giusto in tempo per evitare di essere travolto dalla frana, afferma Berarducci, e in questo ci sono precise responsabilità da parte della provincia che non ha eseguito bene i lavori di messa in sicurezza del pendio della montagna. La strada che unisce il paese con la variante alla Statale 17, che porta a Roccaraso e a Sulmona, era stata chiusa nel marzo scorso e riaperta solo nel mese di ottobre di quest'anno, ed è percorsa quotidianamente da auto, biciclette e pullman dell'ARPA e della SATAM.